In the USA we have democracy. What is your democracy? Io, io, del secondo passo, ti giuro, eh? La democrazia è poter andare in giro con queste in tasse. Io avevo un brazo, un pozzoletto con la pancia e il martello. Questi, quando mi hanno visto? Io non so le vostre idee politiche. Sicuramente in America un po' di tempo fa. Hanno scoperto in una vera democrazia. Penso che io allora, per avere visto... Se hai mai stato iscritto... Io ho scritto no, ma non era vero, ero scritto. Ok, la democrazia per me è... Scegliere il partecipante favorito politico, il rappresentante. Partecipare alle decisioni della collettività. Partecipare alle decisioni che riguardano me stesso. Il potere in mano al popolo o qualcos'altro? Il potere in mano al popolo a questo punto. Ho cambiato. Hai cambiato. Scegliere la presentante. Partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la collettività.